Io sono Massimo Mancone, in questi due giorni ho discutito due importanti domande della malattia cardiologica e della malattia cardiologica, in particolare abbiamo discutito della malattia cardiologica e della malattia cardiologica e della malattia cardiologica e della malattia cardiologica e con il nostro studente abbiamo dimostrato che i malattia di malattia cardiologica sono diversi dalla popolazione generale in particolare presentano un profilo non stabile e questo potrebbe esprimere perché questa popolazione è a più rischio della malattia cardiologica mediata dalla malattia cardiologica un altro tema importante che abbiamo discutito è il shock cardiologico in particolare abbiamo discutito due importanti trial che erano recentemente pubblicati sul uso della malattia intraortica che dimostrava che questo dispositivo importante non è così utile ma in particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla importanza della selezione dei pazienti e la importanza di non trattare tutti i pazienti in una stessa forma perché il shock cardiologico è qualcosa che è molto, molto difficile da trattare perché c'è un'overlazione di situazioni diverse cliniche molto grazie per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti